Vieni a trovarci all'atelier Sofia Monsurro a Cava dei Tirreni, in via Pasquale a Tenolfi 27. Sofia Monsurro, per un'eleganza senza tempo. Si terrà stasera a Maiori la giornata conclusiva del Gran Galà del Premio Internazionale Costierarte, organizzato dallo scultore Silvio Amato, direttore artistico, da designer Antonio Perotti e dalla segreteria organizzativa della fotografa Adele Filomena, in stretta collaborazione con i comuni di minori e maiori che hanno ospitato la manifestazione, protrattasi per un mese. Premi speciali saranno conferiti al gruppo musicale Osanna, un gruppo rock progressivo italiano che è stato tra le prime band rock a proporre concerti dal vivo con trucco e costumi di scena. Nelle loro esibizioni anche coreografie create attraverso la teatralità della tradizione mediterranea con richiami alla Commedia dell'Arte. Inoltre saranno conferiti i premi anche ai circa 40 artisti che hanno partecipato al concorso. Le opere degli artisti durante tutto il mese di giugno, ovvero dall'inizio della Kermesse del Premio Internazionale Costierarte, sono state installate nelle strade più suggestive di Maiori e Minori e saranno ancora visibili fino a settembre prossimo.